ehm Dove facciamo? Pericchi? Yes, va bene Davanti al museo Ah no, eh sì, piazzo io, sono un coglione Bravo, bravo me, bravo Preciso Oh shit, a dragon Pensa se si rialza come gli scheletrini Ho aperto la porta e tu eri esattamente sotto dove ero Esattamente qua Unbelievable Sto provando una nuova armatura Bello, dove l'hai preso? Cazzo, quello che volevo io Eh, aspetta Ah, ok Va bene Minchia, ma tutto il set No, come hai fatto? Hai finito la quest di Lucatiel e te l'ha regalati Oh, ti sei fatto uccidere dal fratello? No Perché? No, invece che uccidere il fratello di Lucatiel non lo uccidi, no? Magari bo No, no, no Ehi Ehi Cosa? Ehi Cosa? Non farlo Non lo fare Fermo Non lo fa Non lo fa E io questo qua voglio Voglio combattere un po' di volto Che figata Vende un sacco di robe simpaticissime Sì Sono un mago Mica un burlo Un buffone da mettere quelle robe niente Sì, infatti Non sono molto utili Ma sono bellissime Sì Oh Salve Hop Sembrano tipo quelli che No Speravo che Quanto bello però come li rompono Anche tipo a testate in modo mega disperato Qua qualcosa è andato storto Esatto Allora, questo mi sembra un pochino strano che sia sul lato così No? Invece Un passetto indietro Please Aspetta c'è il rumore di una Di una Di una Lucertolina Sarà so- Potrebbe essere sopra anche quindi Oh che palle Scusate ma palesemente uno può scavalcare Senza dover Questo è Dark Souls Esatto Questo qua cade dalle scale tipo fa un casino Oh, ma perché su di me? Perché sei d'oro se tu si infatti Che vero? Ah, eccoti qua Sembrava di sentire il rumoreto Menchia quanto grossa Che schifo E quanta vita ha anche No ma da No ma da Ecco Allora, domandina Che cosa ci faceva in gabbia se con un colpo lei è riuscita a distruggere? Lo so Il piacere del stare al sicuro Secondo me E il fatto è che il rumorino si sentiva solo da qua Secondo me è il tipo di sotto È il tipo di sotto Allora È un mago Fa le cose luccicole Perché c'è anche la barriera prima Si sente a questa A questa altezza qua Ok? Qui non si sente per dire Io lo sento sinceramente Io lo sento Sì sì, c'è c'è Il mago Fammi vedere Come altezza è più avanti Esatto, però magari si sente anche da lì No No, non si sente Vabbè adesso non perdiamo troppo tempo per sta roba Così di dramm No 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 Oh tío Ho fatto un casino Ho fatto cadere lì giù Vabbè dai Così nessuno se ne accorge Bello però che rimanga lì giù Oh no! Oh no! Sono caduto Ho toccato robe Succedono cose Vabbè No, non si riesce Ho ci provo zantissimo Questo astronauta qua sta anche bello, sta tipo sezionando un aragosto mi ha laggato tantissimo ha rotto, ha rotto il coso oh no, ho mancato ok, guarda, merda mi sta per, mi sta per, vado ma che pavale, hanno rotto tutto quello che potevano rompere sti pastani è un'andata ma non dotevi lanciarlo a lui, ma tu non sai come entrare eh? aspetta, ancora? tors capitana, uuuh, addirittura, navlav navlav, navlav giustamente l'hai saltato addirittura no, non arriva più il mango esatto, ma che tristezza, che triste, dai vabbè, se non sbaglio ci sarà ancora una o due volte forse che compare si, si ma che bella luce dove va? però il boss è molto ah, un drago ma no, è una viverna ah, esatto ah nooo uh, bellissimo ah, che figata bello, bello batte un po' fermo che si fanno mi chio io si, è un po' strange ma dai la smette usa il tomb quello che li fa abbattare come si chiamava? eh, non lo stavo pensando ah, è morto, ah ok si, è molto easy sto bambino tipo, vaga l'ha capito una volta più che l'ha scesa un sacco mi son distratto un attimo pensando a skyrim esatto il drago proprio è crepato velocissimo questa fase del gioco tipo ascensori no? si, si da il castello in poi e quello lì ancora non l'ho capito si, infatti potrebbero mettere anche una roba tipo la fabbrica del cioccolato nel finale con l'ascensore che spica il mondo ah, ah-ه-ah ah ah ah-ah ah 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 aspetta, ci riprovo cosa sono queste bottiglie? aah no no aah ah ahah oddioo odddio e uuuuh mi interessava ho dato una manata al mouse e si è girata tutta la visuale in modo buono infam sta ah ma è qua puttana ma che cazzo cosa dove sei la salamandra ma va a cagare salamandra tiri tiri baga no no cazzo era bellissimo ti eri bugato in modo bellissimo dovevi rimanere così per un sacco di tempo oh no ma come fa era questo no non è una parete in via no ma non è vero ma cosa non si poteva è perché c'è il quadro credo se sei in gioco pensa si fa da rampa di lancio io chiaramente non ce la faccio lo stesso no 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 ho livellato un po a su tempra posso non rollare più velocemente per fare queste cose vinto il poporaggio tranquilla no 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 ma perché continua a far cadere le robe non posso esco col tempismo a sto giro ho messo più lanci nel sole per motivi di loro tipo perché assomigliano ai dardi che usava guin contro il drago goku chi no ok l'ha preso ciao com'è che bello bravo stai a testa e te quanto quanto e dai stai fermo peccato ma puttana è durata molto meno a pochissima vita quando sta a terra è devastatissimo capitan findus conosce conosceva l'urlo e non ce l'ha voluto dire esatto in realtà lui è il dovakin è Grazie.